...una naturale eleganza con Giulio Bosetti. Sei stato l'ultimo a venirtene via da questa festa, Giulio. Tu sei uno che ti diverti ai cocktail, no? Discutiamo di questa serata. Ecco, secondo me hai un po' esagerato in entusiasmo. Al contrario, sono un po' timido e da principio mi sento sempre un estraneo. Un rompiscato. Giulio, Giulio, così spesso ad angolo retto. In chi baciamani? Né più né meno come tutti. Non si deve essere troppo diversi dagli altri. Poi lo sai, io sono assolutamente comune. Tu in una festa appartieni a tutti. Chiunque ti sequestra. Sai che sei un grande ascoltatore. Ti riferisci a quella signora? Certo mi ha spiegato le sue artriti, ma io l'ho costretta a riderci sopra. Ed è risultata una simpatica, intelligente, garbatissima signora. Quando ti vedo allo specchio, Giulio, non mi sei antipatico. Per quanto mi riguarda, sei il mio miglior amico. Ah, balli male, sai? Senza rimedio. Sì, infatti ballo malissimo. Faccio tenerezza, tanto ballo male. Che bellina che era. Mentre ballavo con lei pensavo se io potevo piacerle così come sono. Le piace perché è un uomo naturalmente, simpaticamente elegante. Ecco ciò che una donna apprezza. Una naturale eleganza può essere anche vostra con gli abiti facis. Questo è il marchio dell'eleganza maschile. Questo marchio vuol dire qualità dei tessuti, modelli di gran linea, lavorazione accurata. Scegliete il vostro cappotto per l'inverno. Facis misurina lire 25.000. Facis bernina lire 30.000. Facis gottardo lire 38.000. Cappotti in purissima lana. Fate vostra quest'anno la naturale eleganza di un morbido caldo cappotto Facis.